buongiorno a tutti ben ritrovati alla rassegna stampa di radio piave in blu condotta dai giornalisti dell'amico del popolo oggi è mercoledì 4 marzo vorrei cominciare con un sorriso nonostante tutte le preoccupazioni e i pensieri che abbiamo e sapete già a cosa mi riferisco con un sorriso di gratitudine soprattutto rivolto a una categoria in particolare quelli che lavorano nel mondo della sanità dobbiamo ricordarci che in questo momento se siamo tutto sommato abbastanza tranquilli nonostante le preoccupazioni per la diffusione del coronavirus se siamo abbastanza tranquilli è perché sappiamo che in caso di necessità troveremo in ospedale e non solo in ospedale del personale medici infermieri tutti gli operatori in grado di curarci al meglio e di provare a salvare anche la vita là dove ci fosse pericolo di questo addirittura quindi anche da qui l'abbiamo già scritto l'altro giorno ma adesso lo dico anche a voce a nome dell'amico del popolo di radio piave insomma un grazie veramente a tutti quelli che lavorano nel mondo della sanità che sappiamo stanno facendo i salti mortali per cercare di ridurre al minimo anche i disagi darci la maggiore sicurezza appunto in questo frangente decisamente delicato insomma e preoccupante che è dovuto alla diffusione del del coronavirus le notizie ovviamente sui nostri giornali sono su questo partiamo dal corriere delle alpi ci sono dei titoli che non è detto che siano in armonia tra i giornali vedremo insomma ci sono delle differenze il corriere delle alpi titola così coronavirus i morti salgono a 7 il gazzettino ne conta 5 si riferisce ci riferiamo al veneto proposta del comitato scientifico al governo stop di 30 giorni a tutte le manifestazioni anche quelle sportive a belluno il primo ricovero in ospedale sono 61 le persone in isolamento 5 tamponi sempre a belluno sono ancora in attesa di risultato cioè del risultato di conferma da roma 5 tamponi che però qui a belluno sono risultati positivi e finora roma non ha mai sconfessato le analisi svolte a livello regionale anche i tamponi bellunesi sono stati analizzati a padova non si placa l'emergenza coronavirus nel veneto dice il lancio e pensate che il corriere delle alpi dedica a questo tema lo vedete per chi ci segue si vede l'accenno alle pagine dedica questo tema da pagina 2 a pagina 13 addirittura in una sola giornata le vittime salgono da 3 a 7 il numero dei contagiati è di 333,8 scusate 333 81 ricoverati 19 dei quali in terapia intensiva parliamo del veneto primo ricovero per sintomatologia sospetta all'ospedale di belluno l'ulss non fornisce dati sulla provenienza della persona né sull'età e sul sesso si sa che la persona ricoverata non si trova in terapia intensiva quindi non è nelle condizioni di salute più gravi che abbiamo visto possono verificarsi proposta del comitato scientifico al governo stop di un mese a tutte le manifestazioni sport compreso e qui apriamo una parentesi per ribadire quello che abbiamo detto anche ieri le indicazioni che il governo fornisce la distanza di un metro lavarsi continuamente le mani eccetera sta a noi rispettarle ed anche ampliarle perché avrete visto che adesso si ragiona se non sia il caso di allargare questa distanza minima tra le persone a due metri perché in realtà la gocciolina del colpo di tosse molto spesso ce la fa superare il metro di distanza quindi la vera distanza di sicurezza rispetto alla tosse è maggiore del metro quindi se noi riusciamo ad come dire a fare le cose in modo ancora più sicuro va a vantaggio nostro personale delle altre persone in provincia di belluno tra l'altro siamo ancora fortunati perché la diffusione del virus è sicuramente ancora molto 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 limitata per cui dobbiamo stare ancora relativamente tranquilli in provincia di belluno però dobbiamo tutti essere attivi e pronti per cercare che le nostre condizioni qua su un po privilegiate se volete perché sempre solito discorso siamo periferia insomma e le cose arrivano qui da noi più lente ecco possiamo cercare di far di tutto per far sì di stare il più possibile tranquilli chiaro che nella stagione turistica in cui abbiamo un affollamento particolare le condizioni di sicurezza anche per noi calano ci esponiamo di più dobbiamo avere dei comportamenti responsabili come dicevo anche ieri l'altra raccomandazione non riguarda soltanto il metro o due metri sarebbe meglio di distanza dalle persone ma riguarda anche gli starnuti state attenti perché dove c'è uno starnuto lì si vaporizza diventa proprio in tutta l'aria la gocciolina che contiene il virus e quindi è respirabile in un secondo in una stanza intera quindi un secondo per modo di dire prima meno di un secondo insomma quindi bisogna stare attenti a queste cose senza panico ma bisogna stare attenti a tutto questo tipo di problemi che si possono creare vi mostro per chi ci segue su facebook sui social nostri su youtube la foto di copertina di questa prima pagina del corriere delle alpi che se vogliamo è bellissima perché mostra una cortina con un pacco di neve da mezzo metro sulle auto gli alberi pieni poggioli degli alberi le strade bianche il titolo è negativo perché dice neve caos sull'allemagna la rabbia dei sindaci e qui siamo alle solite però pensate che tra pochissimo dovrebbero svolgersi e speriamo che si svolgano a cortina come previsto le finali della della coppa del mondo di sci e cortina accoglierebbe tutto il circo diciamo che segue la coppa nelle sue condizioni estetiche migliori insomma con un paesaggio stupendo completamente bianco ecco speriamo che l'appuntamento possa essere mantenuto ieri abbiamo letto dei dubbi che ci sono su su questo argomento noi dobbiamo incrociare le dita speriamo che le decisioni che vengano prese saranno positive chiaro che anche qui si presentano i problemi abbiamo già visto anche ieri insomma la norma di ridurre a un terzo le persone che possono salire nelle cabine delle funivie o delle uvovie si rivela valida fino a un certo punto perché poi la gente si accalca alla partenza e anche qui diciamola una cosa cari bellunesi col buon senso a cui facciamo appello continuamente alle casse dei negozi dove c'è da fare un minimo di coda per piacere non stiamoci addosso tutti quanti tanto nessuno ruba il posto dobbiamo cercare semplicemente di fare delle file un po meno dense diciamo dobbiamo allungare le file quindi anche qui semplicemente buon senso per piacere sappiamo che queste cose possono limitare la diffusione del virus cerchiamo semplicemente lo dico col sorriso sulle labbra cerchiamo semplicemente di essere un po intelligenti e di evitare là dove si può evitare di farci del male da soli ok allora altri titoli su questa prima pagina del del corriere delle alpi turismo albergatore in ginocchio chiudiamo in anticipo annullate gran parte delle prenotazioni per la prossima settimana non ci resta che chiudere dice pra e quindi ci riferiamo al figlio di floriano pra che opera come albergatore nella zona di allega e caprile cortina zai e giacobbi sono fiduciosi le finali si faranno e qui appunto a questo mi riferivo prima no il governatore zai è l'amministratore della fondazione 2021 fiduciosi le finali si faranno e stiamo parlando delle finali di coppa che sono una prova generale per quello che che saranno poi i mondiali dell'anno prossimo la rassegna vinitali si arrende e slitta giugno anche verona fiere alla fine ha dovuto cedere per dirvi insomma che le grandi manifestazioni sono in difficoltà anch'esse più posti letto in rianimazione per aiutare il resto del nord questa è una notizia molto molto importante perché abbiamo letto anche ieri sui giornali che uno dei problemi è garantire appunto la possibilità di essere ricoverati in condizioni sicure ottimale in ospedali ottimi non in tutta italia la situazione è questa questo virus sta colpendo soprattutto il veneto la lombardia il veneto che sono i posti anche più dove dove insomma la sanità è di migliore qualità è molto importante che da noi ci siano posti e si riesca a far fronte a questa emergenza perché potrebbe anche essere che capiti di dover ospitare anche gente che vive in posti dove la sicurezza non è tanta come qui da noi ma evitiamo di chiuderci nel confini e il commento rivisti e giornali contro le poste risarcimento per i danni subiti ieri abbiamo già letto di questo l'avete letto sul sito dell'amico del popolo www.amicodelpopolo.it che vi invito sempre a seguire perché continuiamo a offrire aggiornamenti durante tutto tutto l'arco della giornata quindi insomma se ci seguite sul nostro sito www.amicodelpopolo.it sostanzialmente sapete quello che succede via via durante il giorno e vi informiamo non solo sul coronavirus di certo tra l'altro ne approfitto per ricordare che da da poco siamo anche su telegram quindi se avete un account telegram potete cercarci l'amico del popolo ci trovate potete iscrivervi e riceverete su telegram come fosse un messaggino l'aggiornamento l'ultima notizia che pubblichiamo belluno nevegali impianti al comune così daremo un futuro al colle andiamo adesso a vederla questa cosa recapito in ritardo vi ho detto sulle poste e con questo abbiamo concluso con la prima pagina oggi starò un po di più sul corriere delle alpi perché perché siamo qui insomma il tempo stringe e comunque insomma è chiaro che sugli altri giornali troviamo sostanzialmente le stesse notizie virus ora esplode il caso treviso geriatria è il focolaio più numeroso questa è la notiziona di pagina 2 del corriere del corriere delle alpi gli ultimi deceduti sono un 83 n di roncade e una 97 n residente a treviso il totale degli infetti sale a 93 e c'è timore per questo fatto perché le cifre che ormai registriamo anche in veneto non sono poi così lontani da quelle del primo cluster in lombardia e quindi bisognerà stare un po capire un po quanto pericolosa sia diventata la situazione a treviso spirato il pensionato di mestre era in terapia intensiva da sette giorni primo ricovero in ospedale a belluno si sospetta un contagio da coronavirus questo sto sfogliando al volo una sala parto al san martino per donne contagiate anche questa è un'idea bellissima insomma che dimostra ancora una volta come i nostri operatori della sanità i nostri medici i nostri infermieri gli operatori tutti i tecnici siano in grado di conservare una lucidità in grado di prevenire anche le situazioni quindi di nuovo un bravi a rinforzo di quello che ho detto all'inizio alberghi in ginocchio per le disdette ma c'è chi confida nell'ultima nevicata ancora zaia e giacobi fiduciosi le finali si faranno abbiamo detto prima zaia al tavolo di crisi convocato da conte la sanità del veneto aumenta i posti letto oggi la regione chiederà misure di sostegno all'economia anci il premier sospenda la tosap e l'imposta di soggiorno ricordiamoci anche che in questi giorni il la regione ha acquistato tantissimi presidi mascherine tutto quello che occorre insomma per cui gli ospedali del vento sono veramente attrezzati e questo ci rende molto tranquilli pagina 10 licenziati italia in quarantena anziani in casa e basta strette di mano anche questo facciamoci un saluto con la mano alzata non occorre che ci stringiamo la mano senza paura col sorriso l'intervista a capua capua è sicura i divieti sono giusti il sistema sanitario però questa è un'affermazione grave importante è a rischio di crollo quindi insomma mi raccomando cerchiamo l'abbiamo detto mille volte insomma di far sì che le cose non si propaghino andiamo a vedere dunque adesso dove la ritrovo qui eccolo qui la pagina di belluno che si apre a pagina 19 con il tema delle poste che non soddisfano di sicuro chi ha bisogno di fare spedizioni anche di giornali come siamo noi dell'amico del popolo in prima pagina c'è la fotografia di oscar de bona con marco crepaz li salutiamo tutti e due anche da qui ciao oscar ciao marco che presentano la rivista bellunesi nel mondo l'iniziativa parte da lì anche se in vario modo le riviste tutte si erano attivate l'amico del popolo per primo contro i disservizi postali che costituiscono un problema enorme per raggiungere gli utenti nel tempo nel tempo utile bisogna che le poste si diano una mossa e cerchino di risolvere questa questa situazione allora vi dicevo che davamo che avremmo dato un'occhiata al tema del del nevegal il comune disposto a tornare proprietario degli impianti di risalita sul nevegal decisione subordinata all'individuazione di un gestore privato e massaro è la soluzione che darà un futuro al colle quindi dopo mesi di sempre potremmo dire anni di problemi ma mesi di dibattito insomma sul nuco creiamo un nuovo socio no la regione ci mette i soldi insomma il vertice venezia di ieri sembra aver prodotto un risultato utile per il futuro del colle del nevegal quella che era solo un'ipotesi si è trasformata in disponibilità il comune è disposto a tornare proprietario degli impianti del nevegal il passaggio di proprietà è subordinato all'individuazione attraverso una gara pubblica di un gestore privato lo sottolineiamo non solo perché trasmettiamo da belluno ed è logico concedeteci che ci sia anche un'attenzione particolare su quel che succede a belluno ma anche perché gli operatori dello sci in grande sanno benissimo che nevegal è sempre stata la scuola dello sci per i bellunesi e non solo quindi capire se c'è la possibilità di dare un futuro a un nevegal ha senso ha pienamente senso la prima del gazzettino nuove regole antivirus in veneto i morti salgono a 5 invece di là avevamo letto insomma sono risultano 7 al corriere vi faccio vedere la prima del corriere del veneto inserto del corriere della sera ospedali il piano d'emergenza treviso altri due morti in geriatria i contagiati nella marca superano la zona rossa di vo euganeo io mi fermo qui sono arrivato al termine del tempo a disposizione vi ringrazio ringrazio tutti per l'attenzione mi raccomando col sorriso in faccia ma stiamo attenti perché è giusto per noi stessi e per gli altri dobbiamo aiutarci tutti cerchiamo di non far arrivare qui a belluno far arrivare più tardi che si può questa cosa che è oggettivamente un problema possiamo farcela diamoci una mano tutti quanti ciao buona giornata seguiteci su www.amicodelpopolo.it e su Radio Piave ciao